Siete nei panni di uno dei paperi Disney e state gareggiando in una gara automobilistica contro altri paperi. Chi arriverà per primo al traguardo? Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio parlare di un gioco da tavolo, la 24 ore di Paperopoli. Questo, signori, è un gioco che ha fatto molto parlare di sé nelle scorse settimane. È il gioco da tavolo che è stato allegato alla rivista Topolino. Era necessario acquistare tre numeri della rivista per avere il gioco nella sua forma base e acquistare altre due riviste, diciamo, della Disney per avere il materiale aggiuntivo. Dentro questa scatolina ci sta tutto il materiale relativo al gioco, incluse le bustine per le carte con anche le carte imbustate. La 24 ore di Paperopoli è un gioco di corse, è una gara, un race game, card driven, quindi i giocatori hanno delle carte in mano e devono giocarne due a ogni round per decidere che mossa fare e che manovra fare connessa a quella mossa. E devono anche ottimizzare l'utilizzo di determinati poteri speciali. In questo video vedremo un esempio di gioco, quindi vedremo una parte di una partita a due, però sappiate che qui sul canale abbiamo anche un altro video in cui vi diciamo che cosa ne pensiamo di questo gioco. Ma ora, signori, bando alle ciance, abbassiamo lo sguardo sul tavolo da gioco e scopriamo insieme come funziona la 24 ore di Paperopoli. Signore e signori, ecco a voi la 24 ore di Paperopoli! Ma come sempre, prima di cominciare vi devo presentare chi sono i due sfidanti. Anche quest'oggi simuleremo una partita a due giocatori e ho scelto due personaggi. Allora, uno ha a che fare con Disney, ok? L'altro non ha direttamente a che fare con Disney, ma mi sembrava appropriato così in vista la situazione. Allora, intanto ho scelto, sapete che questo gioco può essere giocato in un gran numero di giocatori, fino a sei, e il gioco include, guardate, sei personaggi in totale, no? Per chi ha fatto la raccolta completa. Quindi avete Zio Paperone, vedete avete Archimede Pitagorico, avete Rocker Duck, che noi però dobbiamo chiamare Rocker Duke perché siamo fedeli alla nostra infanzia, e infine avete Gastone. Però noi per la nostra sfida ognuno, vedete, ha il suo mazzo di carte. Però noi per questa sfida abbiamo scelto di mettere in scena una tenzone fra Paperino, con la sua mitica 313, e Paperina, che viaggia su una macchina che sembra quella di Penelope Pipstop, vi ricordate nelle Walkie Races? Una macchina, vedete, molto vezzosa, no? Molto, molto femminile. E quindi insceneremo appunto questa sfida e per rappresentare questi due sfidanti abbiamo scelto allora appunto per Paperino un, il personaggio Disney per antonomasia, vedete, guardate, questa è una mini fig lego collezionabile di Risalenti, credo al 2018, sapete che non mi ricordo in questo momento, che rappresenta Topolino, Mickey Mouse, nel suo aspetto più antico, proprio più classico, diciamo, è l'aspetto collegato al film d'animazione Steamboat, Willy, in cui Topolino si trova al comando appunto di questo battello a vapore, ecco perché ha in mano questo enorme timone, vedete, grigio, proprio a ricordare appunto quel film d'animazione. È considerato da molti il primo film d'animazione in assoluto, eh, quel cortometraggio. Credo che tecnicamente sia il primo film d'animazione con Topolino a essere stato distribuito e ad avere l'audio sincronizzato al video, anche se non ci sono dialoghi intelligibili, ma solamente musiche ed effetti sonori. Lego ha fatto un intero set che rappresenta quel battello a vapore con sopra Topolino e Minnie, però ha fatto anche questa mini fig indipendente, diciamo, io non ho il set appunto col battello a vapore, ma ho questa mini fig collezionabile che era venduta in una bustina e che rappresenta, vedete, Topolino con un normale corpo Lego, vedete, ha un semplice busto nero, completamente nero, delle gambe, vedete, dual molded con anche delle stampe e guardate questi due pezzi, questo timone è un pezzo molto vecchio in realtà che è stato semplicemente ricolorato, esiste fin dalla fine degli anni Ottanta ed è stato introdotto per la prima volta per le navi pirata Lego e guardate la testa ovviamente è un pezzo completamente, completamente nuovo che si sostituisce alla testa di un normale omino Lego e anche questo berrettino che è di plastica morbida è un pezzo completamente, questo cappellino è un pezzo completamente nuovo, no? È una mini fig sicuramente affascinante, no? Con un effetto nostalgia su noi vecchi, vabbè adesso io non sono così vecchio ad aver visto in prima visione diciamo questo cortometraggio di cui sto parlando perché credo sia degli anni cos'è, 50? Forse anche prima? Aspetta che non mi ricordo di quando è esattamente quel cortometraggio, comunque insomma diciamo che scatena un effetto nostalgia anche per chi non ha direttamente vissuto, no? L'evento a cui si riferisce. Invece signori per rappresentare Paperina ho fatto una scelta un po' strana diciamo, ho scelto non un personaggio Disney, guardate questo non è un personaggio Disney, questo pensate è un personaggio che proviene da un set dedicato al Lego, della serie The Lego Movie 2. Aspetta che sono stati fatti due film, no? A marchio Lego diciamo, a brand Lego, The Lego Movie che ha avuto un grandissimo successo, The Lego Movie 2 che ha avuto un successo un po' meno diciamo importante rispetto al primo film. E nel Lego Movie 2 è una delle antagoniste diciamo, dell'eroe Emmett, che è il protagonista appunto di entrambi questi film. Sono film a loro modo geniali, soprattutto il primo, se non avete mai visto il primo Lego Movie, andatevelo assolutamente a vedere. Non leggete niente a riguardo perché ecco, il primo Lego Movie è uno di quei casi in cui non bisogna assolutamente spoilerarsi un certo evento diciamo, perché fa proprio la sua sperimentazione, fa proprio, è connaturata all'essenza stessa del film. Sapete che noi siamo molto, come dire, siamo molto, no? Siamo sempre molto contrari a chi si preoccupa troppo appunto del plot, degli spoiler. Ecco, però nel caso del primo Lego Movie invece preoccupatevene e cercate di evitare spoiler se non avete visto, se non avete visto il primo film. Comunque questo è un personaggio del Lego Movie 2. Non credo che nel Lego Movie 1 ci fossero le mini doll, perché questa è una mini doll, non è una minifig. Vedete, è un personaggio Lego ufficiale con degli anti-stud sotto, quindi si può attaccare appunto ai normali stud Lego. Le mani possono prendere in mano normali oggetti Lego bar-sized, esattamente come le mani delle minifig classiche. Però appunto queste sono le cosiddette mini doll, cioè sono le minifig introdotte in origine per la serie Friends, la serie che Lego, diversi anni fa ormai, ha pensato di dedicare al pubblico specificamente femminile. E poi sono state però, hanno anche invaso altre linee, altre collane, per esempio le linee dedicate alle Disney Princess, la linea dedicata, la linea Elves, che purtroppo è deceduta, non esiste più, ma è stata molto molto interessante, una collana fantasy appunto estremamente estremamente colorata. Ecco, questa nel, questo personaggio che si chiama Susan, nel Lego Movie 2, è la handmaiden, la servitrice, la dama di compagnia, della regina whatever wannabe. Ok? Questa regina whatever wannabe è in pratica un cumulo di mattoncini colorati che assume di volta in volta forme differenti, no? E questo spiega il suo nome. Vedete, le mini doll sono molto carine, no? Sono molto vezzose, hanno però dei problemi rispetto alle normali minifig, e cioè il fatto che, per esempio, vedete, hanno le, le, la parte bassa articolata come pezzo unico, quindi non possono essere messi in una walking pose, esatto, come le minifig, no? Questo crea un bellissimo, l'abbiamo già raccontato in passato, crea un bellissimo sketch nel Lego Movie 2, no? Che le minifig normali camminano, no? Nell'animazione normalmente. Invece le mini doll saltellano, così, perché non sono in grado, appunto, di camminare. Vedete, non hanno neanche i polsi articolati, questa la rende meno poseable, no? Rispetto alle normali, alle normali minifig. E vedete, hanno anche delle facce che non sono girabili, come le facce, perché vedete, hanno una forma particolare, no? Non possono essere girate, quindi non possono avere due espressioni, no? Come spesso succede alle facce normali delle minifig Lego, che sono dotate di due espressioni. Guardate, questi capelli sono di plastica morbida e possono essere utilizzati anche per normali minifig, eh? Sono compatibili con le normali minifig Lego. Ha anche un bel mantello di stoffa, vedete? E questa bella stampa in questo bel vestito, ok? Vi faccio vedere velocissimamente qual è il set da cui questa minifig deriva, da cui questa minifig arriva. È il set, vediamo se riesco a trovare anche come si chiama, proprio, tecnicamente questo set. Eccolo qua, si chiama, guardate, Introducing Queen Whatever Wannabe. Vedete, è scritto in quel modo lì. E vedete, questa è la Queen, no? Che in questo, vedete, in questo momento ha questa forma di cavallo. E vedete, sopra c'è questa, c'è Susan, che è appunto la sua servitrice. Notare che il set include anche dei mattoncini ulteriori per cambiare faccia e per cambiare, diciamo, aspetto alla regina Whatever Wannabe. E c'è anche questa bananona, che adesso non mi ricordo che ruolo abbia nel film. Questa è Lucy e questa è Captain, come si chiama? Captain, non mi ricordo più. Va bene, insomma, è una minifig che abbiamo utilizzato in uno dei nostri video, quindi forse vi suona familiare se siete talmente folli da guardare tutti i video, da guardare tutti i video, così folli da guardare tutti i video che pubblichiamo. Bene, signori, quindi la sfida odierna sarà fra Paperino e Paperina, ma sarà anche fra Mickey Mouse, il classic Mickey Mouse, e Susan, appunto la servitrice della regina Whatever Wannabe. Molto bene, allora, cos'è la 24 ore di Paperopoli e come funziona? Come sapete questo è il gioco che è stato allegato qualche settimana fa, nel momento in cui pubblichiamo questo video, alla rivista Topolino. Era necessario acquistare tre numeri di Topolino e per avere anche tutti i personaggi aggiuntivi, diciamo, era necessario acquistare anche un numero del mensile o bimestrale, adesso non mi ricordo, Zio Paperone, e un numero del mensile o bimestrale, non mi ricordo, della rivista Paperino. Zio Paperone e Paperino sono due riviste Disney, oggi le riviste Disney sono tutte pubblicate da Panini, in Italia, che riportano non storie inedite, ma storie vecchie, sono antologie di storie già pubblicate, diciamo, che hanno per protagonisti in una rivista Zio Paperone e nell'altra rivista Paperino, d'accordo? Quindi noi abbiamo comprato tutte queste riviste e alla fine abbiamo, appunto, messo assieme il gioco completo, d'accordo? Penso sia possibile ancora recuperare questo gioco, anche se a suo tempo non avete comprato le riviste in edicola, almeno credo ci siano dei siti, vabbè, farò delle indagini ed eventualmente metto dei link in descrizione, ma credo ci siano dei siti in cui è possibile acquistare tutte le riviste, diciamo, contemporaneamente e mettere assieme quindi il gioco, però non ne sono sicuro, guardate la descrizione in basso per avere più informazioni da questo punto di vista. Allora, signori, questo è un gioco di corse, come si può intuire facilmente dal nome e anche dal fatto che i personaggi, vedete, sono rappresentati sulle loro macchinine, queste belle miniature di plastica, è un gioco di corse card-driven, d'accordo? Quindi si gioca, appunto, utilizzando delle carte, non si lanciano dadi, ma si utilizzano delle carte. Vedete, ogni giocatore ha il suo mazzo di carte personalizzato, in realtà i mazzi di carte base, diciamo, sono uguali per tutti i personaggi, d'accordo? Quindi questo mazzo è uguale a quel mazzo, e vedete, però ci sono anche queste carte che abbiamo distribuito qui coperte in questo modo. Questi sono i poteri speciali, va bene? Allora, ve li faccio vedere, poi li ricopriamo, bisogna tenerli a faccia in giù per indicare che non sono attivi, no? All'inizio. Però, vedete, questi sono i poteri speciali. Allora, ci sono quattro poteri speciali che sono uguali per tutti i personaggi, e c'è un potere speciale che invece è diverso per ogni personaggio, no? E questo è l'elemento, diciamo, vagamente asimmetrico implementato da questo gioco. Allora, i poteri uguali per tutti sono, vedete, due carte speciali che poi finiscono nel mazzo di pesca. Quindi c'è anche una leggerissima componente di deck building, potremmo dire, in questo gioco, va bene? Vedete, le carte normali rappresentano dei valori, vedete, che vanno da 1 a 4, no? E hanno anche dei simbolini sotto che rappresentano le manovre, no? Quindi a ogni turno, come vedremo meglio tra poco, il personaggio deve scegliere, il giocatore deve scegliere due carte, una per il movimento e l'altra per la manovra, d'accordo? E le mette coperte davanti a sé e poi tutti contemporaneamente scoprono le loro carte, no? Però, vedete, queste due carte hanno dei movimenti, diciamo, speciali, perché questa permette di scegliere un numero qualunque fra 1 e 4, no? Voi potreste pensare, beh, ma il 4 sarà sempre meglio dell'1, no? Dipende, dipende, dopo vedremo che ci sono alcuni casi in cui è meglio invece scegliere dei numeri più bassi, no? Rispetto al massimo, quindi questa carta è molto utile da quel punto di vista. Invece questa, vedete, addirittura contempla un 6, quindi permette di avanzare ben di 6 caselle, no? Si chiama sprint. Quindi queste due, una volta attivate, finiscono nel mazzo degli scarti. Invece queste qui rimangono sempre qui davanti e vanno di volta in volta riattivate per poter essere utilizzate più volte. E sono, vedete, razzi e mappa. Allora, razzi, il potere speciale razzi permette di avanzare alla propria macchinina un numero indefinito di caselle finché non si incontra o un'altra macchina o un terreno accidentato, vedete, sono questi terreni caratterizzati da questi sassi, oppure la linea del traguardo, no? Quindi permette di avanzare di molte caselle in una singola mossa. Invece la carta, il potere speciale mappa, permette di utilizzare queste scorciatoie. Nel percorso ci sono due scorciatoie, però è possibile utilizzarle appunto solamente se si attiva quel potere, d'accordo? Poi, come dicevamo, i poteri speciali sono diversi per ogni personaggio, quindi adesso noi indaghiamo su quali sono, vedete, vi faccio vedere che Paperino ha esattamente gli stessi, vedete, quattro poteri, però ha un potere speciale, ha un potere speciale diverso, no? Quindi vediamo quali sono i poteri speciali di questi due personaggi. Allora, il potere speciale di Paperino si chiama la mitica 313, sfreccia sulla pista. Puoi utilizzare il superpotere per effettuare un sorpasso in velocità anche sulle auto che si trovano su un terreno difficile e o affiancate. Ecco, capiremo meglio il senso di questo potere quando spiegheremo appunto come funziona il sorpasso in velocità, d'accordo? Quindi portate pazienza a qualche istante. Prima le signore si chiama il potere di Paperina. Puoi utilizzare il superpotere per impedire a tutti gli avversari di effettuare un sorpasso in velocità della tua auto o di affiancarti fino alla fine del turno, d'accordo? Allora, entrambi questi poteri hanno a che fare col sorpasso in velocità, quindi a questo punto bisogna spiegare cosa è il sorpasso in velocità, se no non capiamo nulla, d'accordo? Allora, nel proprio turno il giocatore, appunto, come stavo dicendo prima, i giocatori preparano contemporaneamente due carte, una per il movimento e l'altra per la manovra, e adesso naturalmente vedremo anche quali sono le manovre, d'accordo? Poi vengono appunto mosse le macchinine, no? Ogni giocatore si agisce a turno partendo dal giocatore in testa, d'accordo? Quindi l'ordine di turno può cambiare, anzi cambia sicuramente nel corso della partita, ok? Però attenzione, mettiamo che Paperino sia... vediamo un po' che esempio potremmo mettere, mettiamo che Paperino sia qua, no? Ecco, se Paperina termina la sua mossa nella casella immediatamente retrostante, quella in cui si trova Paperino, può fare un sorpasso in velocità, d'accordo? Quindi vuol dire che può affiancare la sua auto a quella di Paperino e portare la sua auto davanti a quella di Paperino, gratis, d'accordo? Questo è uno dei motivi per cui a volte vale la pena muoversi meno, no? Rispetto... Cioè, se Paperina è qua, ok? E può scegliere, vediamo un po', anzi, se Paperina è qua, no? Che esempio potremmo fare? Se Paperina è qua, d'accordo? E gioca questa carta, le conviene muoversi non di quattro caselle, ma di tre, d'accordo? Se si muove di quattro caselle, fa così, uno, due, tre, quattro, e si affianca a Paperino, fine. Se invece muove di tre caselle, fa così, uno, due, tre, e fa un sorpasso in velocità. Quindi finisce qui, d'accordo? Quindi per Paperina è stato più conveniente muoversi di tre caselle che non di quattro, d'accordo? Qui ci sono degli elementi, eh? Degli elementi anche di, 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 no? Un po' di strategia, diciamo, è presente, no? All'interno, all'interno, all'interno di questo gioco, d'accordo? Quindi, questo è il sorpasso in velocità, ok? E, vedete, il potere di Paperino dice, puoi fare il sorpasso in velocità anche sulle auto che si trovano su un terreno difficile o affiancate, perché normalmente, se l'auto è su un terreno difficile, d'accordo? Non è possibile, cioè, se Paperina è qua e Paperino finisce il suo turno qua, il suo movimento qua, non può fare il sorpasso in velocità, perché il terreno difficile lo impedisce, d'accordo? Però se usa questo potere, può farlo, anche se è sul terreno difficile, d'accordo? Se ci sono due macchine affiancate e ne arriva una terza dietro, adesso non possiamo fare questo esempio qui, non è possibile fare il sorpasso in velocità, se Paperino usa il suo potere può farlo, d'accordo? Invece il potere di Paperina è in pratica bloccare per un turno la possibilità sia di affiancare la sua auto, sia di fare un sorpasso in velocità. D'accordo? Quindi questo è il modo in cui funzionano i poteri speciali. Va bene, abbiamo spiegato quasi tutto, ma non abbiamo spiegato le manovre, va bene? Allora, guardate, questa manovre, come dicevamo prima, il giocatore nel suo turno, i giocatori, anzi non nel loro turno, all'inizio di ogni round, i giocatori scelgono due carte da giocare, una per il movimento e l'altra per la manovra, e mettono quella per il movimento a sinistra e quella per la manovra a destra, e le mettono coperte davanti a sé in questo modo. Poi le scoprono, e come stavo dicendo prima, in ordine di vantaggio sul circuito, quindi partendo da chi è più in vantaggio, iniziano a risolvere appunto i loro movimenti, no? Quindi risolvono il movimento e risolvono la loro manovra, ok? Allora, questa manovra qui, guardate, indica che si può andare, si può procedere su qualunque terreno, perché il terreno difficile impone di fermarci si sopra, quindi se io sono qua, se Paperino è lì e gioca a un movimento di tre, deve per forza comunque fermarsi qua, anche se ha un movimento di tre, perché c'è il terreno difficile, però se gioca a questa manovra può fare il suo movimento nella sua interezza, d'accordo? Poi, allora, questa, guardate, non mi ricordo come si chiama, ma insomma permette di aggiungere uno o due al proprio movimento, ok? Quindi semplicemente si avanza di una o di due caselle in più, ok? Questo qua, guardate dov'è, questo qua permette di preparare un potere, d'accordo? Attenzione, i poteri si possono preparare, come dicevo, questi poteri speciali iniziano tutti coperti, no? E vanno preparati per poter essere utilizzati, ok? Ci sono due modi per preparare un potere, uno è usare questa manovra, no? Che permette appunto di preparare un potere, l'altro è giocare due carte movimento con lo stesso, due carte che abbiano lo stesso parlo di movimento, ok? Per esempio, se io gioco queste due carte, d'accordo? Posso, vedete, preparare un potere utilizzando quest'icona, ma posso preparare un potere anche utilizzando il fatto che ci sono i due numeri uguali, però attenzione, di solito i due numeri uguali conviene usarli per attivare un potere, cioè questo simbolo permette solo di prepararlo, i due numeri uguali permettono di prepararlo o di utilizzarlo, d'accordo? Quindi è molto importante, ecco perché a volte ha più senso scegliere un numero di movimento basso rispetto a uno alto, no? Anche per questo motivo, d'accordo? Per far sì che ci siano due numeri uguali che ci permettono di utilizzare un superpotere, d'accordo? E' importante da questo punto di vista il tempismo, e credo che il regolamento potesse essere fatto un po' meglio, da questo punto di vista, perché guardate, la fase superpoteri è la fase 3, cioè la fase che si riferisce alle carte giocate con lo stesso numero è la fase 3, e vedete? È possibile attraverso questa fase o usare un superpotere già preparato o preparare un superpotere, d'accordo? La fase invece preparazione che si riferisce a questo simbolo è la fase 5, va bene? Quindi prima, diciamo, si risolve l'effetto delle due carte uguali, ok? Quindi nel nostro caso prima si risolve l'effetto di queste due carte, quindi o si prepara un potere o lo si usa, poi si risolve questo effetto. Quindi è possibile usare un potere e ripreparare lo stesso potere, nello stesso turno, d'accordo? Utilizzando i due numeri uguali, anche questo simbolo è un po' contorto, eh, sto regolamento, secondo me, poteva essere fatto in maniera più... Va bene, parliamo nel nostro video con l'esempio di gioco, scusate, con il nostro parere, ma insomma, poteva secondo noi essere fatto un po' meglio, in maniera un po' più chiara. Non oso immaginare quanti bambini ci siano in giro per l'Italia in questo momento che stanno giocando questo gioco in maniera del tutto errata, va bene? Magari lo sto giocando sbagliato anch'io, eh, anzi fatemi sapere nei commenti se vi sembra che io stia dicendo qualche castroneria, perché non lo escluderei del tutto, va bene? Perché la mia età fisica, eh, come dire, è abbastanza avanzata, ma la mia età mentale non necessariamente. Va bene, allora, eh, direi che possiamo... abbiamo spiegato praticamente tutto e capirete un po' meglio giocando, d'accordo? Quindi direi a questo punto di dare il via alla partita. Bene, siamo pronti dunque per cominciare e, eh, ufficialmente per decidere chi è il primo giocatore c'è una procedura ben precisa. Si mescolano le carte, d'accordo? Quindi mescoliamo per bene le, le carte, ok? Così. Le abbiamo anche bustate, siamo veramente dirigenti. Poi ne prendiamo quattro, d'accordo? Ogni giocatore inizia con quattro carte, quindi queste sono le quattro di, eh, eh, Paperino e mischiamo anche il mazzo di Paperina e prendiamo quattro carte anche per Paperina. Uno, due, tre, quattro. Molto bene. Queste sono le quattro carte di Paperina, ok? Adesso ogni giocatore deve segretamente scegliere una carta che serve semplicemente per decidere chi è il primo, ok? Quindi si guarda solamente il numero di questa carta. Quindi vedete, Paperino ha pescato due uni che possono essere utili per preparare o far scattare un potere. Guardate, questo permetterebbe di preparare un potere. Potremmo giocare, vediamo un po'. È un po' complicata qui la faccenda, eh. Vediamo un po'. Vabbè, giochiamo il tre. Paperino decide di giocare il tre per stabilire chi parte per primo. Quindi Paperina segretamente deve scegliere anche la, vedete, lei ha tre carte uguali. Interessante. E una ha anche il simbolo. Quindi questa qui, qui potrebbe preparare ben due superpoteri con questa. Oppure prima giocare questa e poi sperare di avere... vediamo un po'. Vabbè, decide di giocare, decide di giocare... boh, questo qui, questa carta, va bene? Per stabilire... per stabilire chi sarà primo. Quindi la scelta è stata fatta. A questo punto tutti i giocatori contemporaneamente rivelano la loro carta. Paperino ha un tre, Paperina ha un due. Quindi a questo punto, signori, Paperino parte e va in prima posizione nella linea di partenza. E questa è la sua pila degli scarti, va bene? Paperina invece va in seconda posizione nella sua linea di partenza. E questa è la sua pila degli scarti. d'accordo? Una volta stabilito l'ordine di partenza, si può naturalmente cominciare, d'accordo? Allora, all'inizio di ogni round, ogni giocatore ha in mano tre carte. E deve decidere di usare due di queste carte, come dicevamo. Una per l'avanzamento, una per la manovra. D'accordo? Allora, Paperino potrebbe usare, guardate, queste due carte così, ok? Queste due, perché così potrebbe avanzare di uno più due, tre, e arriverebbe fino a questa casella, ok? E potrebbe anche preparare un superpotere, no? Oppure potrebbe avanzare di quattro usando questa manovra che gli permette di superare il terreno difficile, arriverebbe fino a qua. Però non preparerebbe un potere speciale. Quindi deve decidere se è meglio preparare un potere speciale o se è meglio semplicemente avanzare. Paperino decide che è meglio preparare un potere speciale. Quindi farà così, giocherà questa carta da questa parte e questa carta da questa parte. Questa vale per il movimento, questa vale per la manovra. D'accordo? Quindi questa, mettiamo le due carte così, questa è la giocata di Paperino. Contemporaneamente Paperina deve decidere la sua giocata, no? Quindi le sue carte sono queste qui. Allora, Paperina sicuramente direi che avanzerà di due e poi potrebbe, vediamo un po' anche lei, avanzare di tre. Oppure potrebbe prepararsi un superpotere, no? Certo, mettendo il jolly, mettendo il jolly si lascia le opzioni un po' aperte, no? Perché il jolly permette la scelta di qualunque manovra, no? Quindi è molto utile usare il jolly come manovra. Quindi Paperina farà così, no? Userà queste due carte. Benissimo, a questo punto entrambi i giocatori sono pronti, no? Hanno scelto le loro carte da giocare e comincia Paperino a scoprire le sue. Quindi Paperino si muove di una casella più due, d'accordo? E arriva fino a qui, uno, due, tre, va bene? E attenzione, quindi ha usato anche la sua manovra e a questo punto può preparare un superpotere. Che superpotere vuole preparare? Beh, Paperino vuole dedicarsi prima di tutto alla costruzione del suo mazzo, al suo deck building, quindi preparerà anzitutto la carta sprint, va bene? Adesso il potere sprint per Paperino è preparato, quindi in un turno successivo potrà utilizzarlo, no? E quindi prenderlo in mano, diciamo. Molto bene. Tocca a Paperina, a questo punto Paperino ha risolto il suo turno, Paperina scopre le sue carte e vediamo un po'. Paperina ha due di movimento e può fare la manovra che vuole, d'accordo? Allora, con due di movimento, uno, due, non scatta il sorpasso in velocità, perché vi ricordate prima dicevamo che la casella terreno difficile non lo permette, d'accordo? Però Paperina potrebbe usare quel potere per avanzare di un'altra casella, no? Cioè facendo finta che quel jolly sia questo potere, questo qui, no? Il turbo. Potrebbe avanzare di un'altra casella e affiancarsi a Paperino, ok? Perché vedete le, 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 ogni casella, diciamo, ha in pratica due sottocaselle, no? È possibile che le auto siano affiancate, però è considerata in testa, in vantaggio quella che è vicino alla parte interna della pista, vedete dove c'è la linea verde tratteggiata, d'accordo? Quindi potrebbe fare quello, oppure potrebbe anche usare quel, 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 quel simbolo come questo superpotere, no? Come questo, scusate, come questa manovra. Quindi potrebbe preparare ben due superpoteri, e forse farà proprio così Paperina, prepara due superpoteri. E vediamo un po'. Paperina decide invece di preparare, beh, prepara anche lei lo sprint, però poi vorrebbe preparare razzi, vediamo un po', ecco qua, prepara sprint e prepara razzi. Molto bene, questo signori è la fine del primo round. A questo punto queste carte vanno depositate negli scarti, ok? Vanno depositate negli scarti e possiamo procedere a un nuovo round. Quindi entrambi i giocatori pescano due carte dal loro mazzo, quindi due carte per Paperino, due carte per Paperina. E si continua la scelta, no? Delle carte, si prosegue nuovamente. Allora Paperino, ah, vedete, purtroppo non ha due carte uguali. Questo è seccante, perché non può, non può attivare il potere che ha preparato prima. Vabbè, a questo punto facciamolo avanzare di quattro e scegliamo come superpotere questo uno che tanto ha un jolly, quindi possiamo poi decidere che superpotere utilizzare, d'accordo? Quindi questa è la scelta, è la scelta di Paperino. Vediamo invece che mano ha Paperina se le sono capitati due numeri uguali. Sì, ha due e tre, benissimo. Quindi a questo punto vediamo un po'. Potrebbe fare così, potrebbe usare i due e tre in questo modo, usare il jolly come manovra che le permette di superare il terreno difficile e non di fermarci sì sopra e poi può anche attivare un suo superpotere, no? Quindi sì, direi che questa è la scelta di Paperina. Molto bene, a questo punto i giocatori fanno questa roba contemporaneamente, d'accordo? Quindi se a questo punto siamo pronti a scoprire le carte, inizia Paperino che ha in vantaggio. Quindi Paperino si muove di quattro e ha, vedete, un... quindi potrebbe o scegliere di muoversi semplicemente di tre e preparare un superpotere, oppure potrebbe usare questo come il potere, come la manovra che permette di... questo jolly come la manovra che permette di superare tutti i terreni. E farà proprio così, va bene? Quindi Paperino si muove di quattro su tutti i terreni. Uno, due, tre, quattro. E la sua mossa a questo punto finisce e tocca a Paperina. Paperina, allora, ha scelto due carte uguali, quindi si muove di tre. Il suo jolly lo userà anche lei per superare ogni tipo di terreno, va bene? Quindi uno, due e tre, ok? E a questo punto però Paperina, attenzione, ha due numeri uguali, quindi può attivare un suo potere. Non ha tanto senso in questa circostanza attivare i razzi, perché attivando i razzi avanzerebbe solo di una casella. Quindi attiva lo sprint. E quando vengono attivate queste carte speciali, diciamo, semplicemente finiscono nel mazzo, no? Quindi questo sei finisce nella mano, anzi non nel mazzo, scusate, di Paperina, d'accordo? Quindi Paperina a questo punto dovrà pescare una carta e non due, perché ne ha già due in mano, va bene? Fine di questo round. Le carte vanno rimesse, vanno messe negli scarti, d'accordo? E a questo punto, appunto, Paperino pescherà due nuove carte dal suo mazzo. Paperina pescherà una nuova carta dal suo mazzo, va bene? E vediamo come prosegue la nostra gara. Allora, cosa decide di fare Paperino? Mumble, 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 vediamo un po'. Potrebbe avanzare uno, due, tre, quattro, potrebbe avanzare di quattro e usare questo. Non ha due numeri uguali, ragazzi, non c'è verso. Potrebbe preparare un altro superpotere, oppure... Boh, non lo so, vabbè, comunque direi di... Beh, ma a questo punto usiamo anche l'uno, no? Usiamo anche l'uno, ci teniamo il tre in mano per un momento migliore, quindi Paperino è un po' sfortunato, eh? Beh, questo rientra perfettamente nel cliché del personaggio, se ci pensate, no? Paperino è proprio lo sfortunato per antonomasia. Vediamo invece Paperina. Oh, Paperina potrebbe usare lo sprint, ma avrebbe due numeri uguali anche qua, eh? Quindi potrebbe anche usare i razzi. Sapete che non è una brutta idea? Paperina decide di tenersi lo sprint e di usare questi due numeri uguali, va bene? Mettendo il jolly dalla parte delle manovre. Molto bene, la scelta è stata fatta. Tocca sempre a Paperino che ha in testa scoprire per primo le sue carte, quindi Paperino ha utilizzato, vedete, un 4 per il movimento e come manovra ha la preparazione di un potere. Quindi intanto fa 4, 1, 2, 3, 4 e arriva fino a qua e poi può preparare un altro suo superpotere e decide di preparare quest'altro forse o vuole preparare anche lui i razzi. Però anche la mappa si sta avvicinando, no? La possibilità di usare quella scorciatoia. Ma si decide di attivare la mappa, Paperino, quindi ha quest'altro potere attivo. Vediamo invece cosa fa Paperina. Allora, Paperina ha scoperto due numeri uguali, va bene? Quindi potrà attivare un superpotere, avanza di uno può anche, deve anche decidere che cosa fare di questa sua manovra, no? Cosa le conviene? Decide di utilizzare questo come un simbolo di preparazione potere. Però attenzione, prima utilizza il suo potere razzi e utilizzando il suo potere razzi finisce subito dietro a Paperino. Poi, grazie alla sua manovra, riprepara i razzi, d'accordo? Quindi questo potere è stato usato e poi è stato ripreparato nello stesso round. Quindi in pratica la situazione rimane questa, va bene? E questa è la situazione alla fine di quest'altro round. Quindi scartiamo le carte. Vedete, Paperino è tallonato dalla sua avversaria che però per ora non è riuscita a superarlo, va bene? Però lei ha uno sprint in mano, non dimentichiamolo. Entrambi i contendenti pescano due carte, va bene? E vediamo un po' cosa decide di fare Paperino. Paperino ha una mappa attivata. Uh, attenzione, può anche usare... Ebbè, a questo punto farà così, eh? Guardate che questa è un'idea geniale, ragazzi. Paperino riesce a usare la scorciatoia se fa questa combo. Riesce a usare... E a questo punto diventa un po' imprendibile, se ci pensate. Perché così facendo avanza di quattro e in più può usare un suo potere. Sì, 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 sì. Paperino questa volta ha avuto un bel colpo di fortuna. Vediamo invece Paperina cosa vuole fare. Allora, Paperina vuole assolutamente usare il suo sprint a questo punto. Però per poter passare quel terreno difficile che ha davanti deve per forza mettere questo quattro come manovra, che è un po' uno spreco, no? Per usare questa manovra. Quindi questa è la mossa di Paperina. Va bene. Paperino risolve la sua mossa. Quindi Paperino avanza di tre con la manovra che gli permette di avanzare di una o due caselle in più. Va bene. Quindi decide di avanzare di quattro, ok? E può usare un suo superpotere. Quindi uno, due, tre, quattro, superpotere mappa e Paperino va dritto qua. Ragazzi, questa è stata una mossa veramente notevole. Va bene? Quindi adesso però il potere mappa è stato utilizzato, quindi deve essere rigirato in questo modo. Eh! Paperina è stata presa un po' in contropiede da questa mossa ma lei, attenzione, usa uno sprint, sei caselle, con la manovra che le permette di andare su qualunque terreno. Quindi può avanzare di sei caselle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Però purtroppo è presa indietro rispetto a Paperino perché Paperino ha usato appunto la scorciatoia. Molto bene. E queste carte a questo punto finiscono negli scarti. Vedete? Anche lo sprint di Paperino finisce negli scarti. D'accordo? Quindi entrambi i giocatori pescano due carte. Allora, da regolamento bisogna fare due giri. D'accordo? Io direi che dopo il primo giro noi fermiamo questo esempio di gioco. Quindi quando arriviamo appunto alla linea del treguardo, perché insomma avete capito più o meno come funziona, no? Il secondo giro sarebbe solo un more of the same. D'accordo? Però sappiate che da regolamento bisogna fare appunto due giri. Allora, Paperino cosa vuole fare di bello? Beh, così potrebbe prendersi in mano lo sprint, ragazzi. E potrebbe anche preparare un altro potere. È inutile scegliere questa come manovra nel caso specifico perché vedete dopo essere avanzati di due c'è un terreno difficile. Quindi se non si ha la carta che permette di andare su terreno difficile non si può comunque avanzare ulteriormente. D'accordo? Quindi questa è l'opzione che ha più senso per Paperino. Invece vediamo cosa vuole fare Paperina. Allora, Paperina deve assolutamente recuperare il terreno perduto. Potrebbe fare così, avanzare di quattro anche su terreno difficile. Quindi sì, sceglierà questa opzione Paperina. Va bene? Bene, è sempre Paperino che deve scoprire per primo le sue carte. Quindi dicevamo che Paperino ha giocato due numeri uguali. D'accordo? Quindi, beh, intanto avanza di due. D'accordo? Poi usa un superpotere. Quindi si prende il suo sprint in mano e poi grazie a questo simbolo prepara un superpotere. Allora direi che preparerà vediamo un po' quale vuole preparare. Questo qui per continuare a costruire il suo mazzo. D'accordo? Quindi questa è stata la mossa di Paperino. Vediamo invece cosa vuole fare Paperina. Paperina avanza di quattro in ogni terreno. D'accordo? Uno, due, tre, quattro. Però vedete è ancora indietro rispetto a Paperino. Non riesce tanto a riprendere la distanza. Va bene, le carte finiscono negli scarti e procediamo a un nuovo round, signori. Quindi Paperino a questo punto pescherà un'unica carta perché ne ha già due in mano, perché ha preso il 6, lo sprint. Paperina invece ne pesca due. Allora, cosa vuole fare Paperino? Beh, Paperino vuole usare il suo sprint. Che dite? Usiamo lo sprint? Vediamo un po'. Potremmo usare lo sprint e potremmo preparare un superpotere. Perché no? Ma sì, Paperino decide di fare questa scelta. Quindi di usare appunto il 6 come movimento e l'altro come manovra che è un jolly. Invece vediamo cosa fa Paperina. Paperina così potrebbe usare i suoi razzi, ma ha quel terreno difficile davanti che è veramente fastidioso. È veramente sfortunata qui Paperina. Potrebbe fare così, forse le conviene fare così, per cercare di superare quel terreno. Vabbè, purtroppo rimane indietro. La fortuna conta. Allora, Paperino 6 e in più prepara un superpotere. Quindi prima avanza di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene? E poi prepara un suo superpotere e direi che gli facciamo preparare razzi. D'accordo? Invece Paperina avanza di 3 su tutti i terreni. Quindi 1, 2, 3. Però attenzione, perché a volte basta un utilizzo oculato della carta a razzi o di un passaggio segreto per risolvere una situazione. Quindi Paperina non deve farsi scoraggiare, diciamo. Continuiamo, mettiamo le carte negli scarti. Tra un po' dovremo rimescolare perché i mazzi si stanno assottigliando sempre di più. Paperino pesca due carte, Paperina pesca due carte e andiamo avanti. Vediamo un po'. Allora, oh beh, Paperino è fortunatissimo. Guardate, può anche attivare un suo potere. Peccato non aver, orca miseria, peccato non aver ripreparato la mappa. Perché avrebbe potuto, beh, aspetta però. Sì, avrebbe potuto di nuovo utilizzare il passaggio segreto, ragazzi. Però non ce l'ha pronto, no? Che disdetta. E vabbè, si prende in mano una di quelle carte. Va bene? Quindi la scelta di Paperino sarà questa, d'accordo? Queste due carte, così. Vediamo se Paperina riesce a combinare qualcosa. Allora, Paperina potrebbe avanzare di quattro e anche attivare un superpotere. Sì, facciamo così, facciamo così. Vediamo se riusciamo a farle recuperare un po' di terreno. Bene, è sempre Paperino il primo a dover scoprire le sue carte. Quindi, vedete, ha scelto un quattro come movimento e può andare su qualunque terreno. Quindi uno, due, tre, quattro. Non può purtroppo usare il passaggio segreto, ma può comunque usare uno di questi due poteri. Con i razzi andrebbe avanti di una casella. Boh, non è che abbia molto senso. Si prende in mano questa carta. Non decide di attivare questo potere. Vediamo invece Paperina. Allora, Paperina ha un quattro e un quattro, quindi intanto avanza di quattro. Uno, due, tre, quattro. Poi potrebbe usare, vediamo un po', potrebbe usare questo per avanzare di un'ulteriore casella, poi però con i razzi avanzerebbe solamente di una casella. Cioè ha due terreni accidentati davanti a sé, quindi è un po' problematica la faccenda. Forse le conviene, vediamo un po', le conviene usare un suo potere? Le conviene usare questi, le conviene preparare un potere? E vabbè, deve comunque usare i razzi, eh. Perché prima, cioè o prepara due poteri, prepara entrambi quei poteri, tipo, rimanendo lì, oppure no, decide di usare questo come un più uno, va bene? Quindi avanza fino a qua, ok? E poi utilizza razzi. Utilizza razzi oppure ne faccia, beh, non so neanche io se fasse utilizzare razzi. No, decide di preparare quest'altro potere, va bene? Quindi a questo punto il round è finito in questo modo, va bene? Allora, Paperino deve pescare un'unica carta, quindi non ha bisogno di rimescolare il suo mazzo perché ne ha tre in mano. Invece Paperina deve rimescolare il suo mazzo perché deve pescarne due, ne ha solo una nel suo mazzo degli scarti, quindi rimescoliamo il mazzo di Paperina e creiamo un nuovo mazzo di pesca. Adesso dentro questo mazzo di pesca c'è anche il 6, c'è anche lo sprint, quindi questa è la carta che Paperina pesca per il suo, pesca scusate, per la sua mano. Allora, vediamo che mossa fa Paperino. Oh, Paperino ha il vale tutto, quindi potrebbe farlo diventare un 3 e facendolo diventare un 3 potrebbe... Ragazzi, sì, Paperino ha già quasi vinto. Vince praticamente nella prossima mossa, d'accordo? Perché così facendo passa anche sul terreno difficile, attiva i razzi, arriva fino al treguardo. Sì, 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 Paperino ha assolutamente, assolutamente vinto la sua sfida, direi. E vediamo Paperina cosa riesce a fare con le carte che ha in mano, allora potrebbe avanzare di 3 e poi potrebbe far partire dei razzi. E vabbè, però comunque c'è quel terreno difficile, quello lì, vedete subito davanti Paperino, che fermerebbe la sua avanzata. Vabbè, comunque decide lo stesso di fare così, d'accordo? Quindi questa è la mossa di Paperina. Allora, guardate, signori, la mossa di Paperino. Un vale tutto e un 3, quindi decide di avanzare di 3 su qualunque terreno, così da attivare un suo superpotere. 1, 2, 3. Attiva il suo superpotere a razzi, perché questo conta come 3, no? Quindi in questo caso sono tre numeri uguali, d'accordo? E attivando i razzi arriva fino alla linea del treguardo. La linea del treguardo ti ferma, bisogna andare oltre la linea del treguardo, ecco perché dico che Paperino vincerà nel prossimo round, non già in questo. Però insomma direi che ha la vittoria praticamente in tasca. Vediamo Paperina cosa riesce a fare. Allora, Paperina avanza di 3 in ogni terreno. 1, 2, 3, d'accordo? E può attivare un suo superpotere. Adesso deve decidere se attivare i razzi e arrivare fino a quel terreno difficile. Oppure se prendersi in mano questa carta? Vabbè, tanto ormai la situazione è abbastanza irrecuperabile. Utilizza i razzi e arriva fino a qua, d'accordo? E vabbè, manca appunto un ulteriore round. Paperina pesca le sue carte dal mazzo che ha mischiato prima. Adesso Paperino deve mischiare la sua fila degli scarti. Ok, andiamo avanti. Ma insomma, ecco ricordatevi che bisogna fare due giri comunque. Noi ne stiamo facendo solo uno in questo esempio di gioco, ma ricordatevi che normalmente ne vanno fatti due. Quindi è molto importante tenere presente questo. Cioè il fatto che Paperino abbia questo vantaggio. Diciamo che il gioco offre degli strumenti. Certo per Paperina sarà difficile colmarlo, però il gioco comunque offre degli strumenti. Non bisogna mai perdersi d'animo, perché un razzo al momento giusto, un sorpasso in velocità al momento giusto, può risolvere la situazione. Bene, questa è la mano di Paperino che vabbè, direi che gioca queste due carte così. Tanto gli basta appunto fare un passo per aver vinto. Vediamo se Paperina, ecco per esempio sarebbe bello che Paperina, cioè adesso sarebbe utile per Paperina usare il razzo. Però vedete, guardate, non ha neanche due numeri uguali, quindi proprio sfortunatissima. E vabbè, avanzerà di 4 e attiverà un suo superpotere. Questa è la sua mossa. Allora, vediamo Paperino cosa fa. Paperino avanza di 3 su qualunque terreno. Beh, è abbastanza insulso in realtà il potere che abbiamo scelto, ma Paperino interessava solo arrivare oltre il traguardo e attivare un potere, perché appunto usa... no, attivarlo, prepararlo, perché vedete ha due numeri uguali, non aveva nessun potere pronto, quindi prepara i razzi. E invece Paperina, vedete, avanza di 4. 1, 2, 3, 4. E può preparare un suo superpotere. Vabbè, decide di ripreparare i razzi, però appunto... Ecco, se la partita continuasse naturalmente avrebbe tutto molto senso, noi decidiamo però di fermarci qua con il nostro esempio di gioco. Questa è la 24 ore di Paperopoli, d'accordo? Ecco, se volete sapere di più di questo gioco, per esempio quali sono i poteri speciali di tutti i personaggi, ecco, parleremo di questo nel video con il nostro parere, ok? Quindi andate a vedervi anche l'altro nostro video sulla 24 ore di Paperopoli. Topolino ha vinto contro Susan, Paperino ha vinto contro Paperina. Va bene, questo è un po' il riassunto di questo video. Spero, insomma, che abbiate chiaro come funziona la 24 ore di Paperopoli. Bene, signori, quindi questa era la 24 ore di Paperopoli, il gioco da tavolo allegato a Topolino. Dopo questo esempio di gioco penso che abbiate ben chiaro come funziona questo gioco. Che cosa ne pensate? L'avete collezionato anche voi? Lo state giocando? Pensate che sia solo un gioco per bambini? Pensate che possa dire qualcosa anche ai giocatori un po' più esperti, un po' più scafati? Fateci sapere naturalmente cosa ne pensate nei commenti qui sotto e ricordatevi che qui sul canale abbiamo anche un altro video dedicato a questo gioco in cui vi facciamo una video recensione, ma potete trovare anche una recensione scritta, come sempre, sul sito lamascherariposta.it. Io vi ringrazio moltissimo per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.